Come anticipato ieri ci sono notizie positive per il Campobasso e per tutta la cittadina del capoluogo molisano. La regione molise riparte con il sostegno allo sport e agli impianti sportivi su impulso e ferma volontà di arrivare ad un primo risultato. Da parte dell'assessore allo sport Vincenzo Niro e del presidente Donato Doma, la Giunta ha deliberato un finanziamento di 700 mila euro per i lavori allo stadio Selvapiana. Una serie di lavori utili a portare la capienza dell'impianto sino a 14 mila spettatori. Gli interventi previsti da fare sono bonifica dei corpi ferrosi, installazione dei tornelli con sistema elettronico di controlli di accessi, adeguamento dei locali per il controllo antidoping e installazione di un sistema di videosorveglianza correlativa a Salagos. La delibera è arrivata dopo il sollecito ai lavori da parte dell'assessore Vincenzo Niro, che in una missiva di marzo indirizzata al presidente Doma diceva che l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo di Selvapiana strategico e fondamentale per il conseguimento dei requisiti securer strutturali prescritti per il rilascio della necessaria certificazione di agibilità. Questo non solo per consentire al campo basso calcio la disputa delle gare in un'eventuale categoria superiore, ma anche per ospitare in un prossimo futuro la nazionale di calcio Under 21, come era in programma già con il presidente Di Cristinzi prima dell'emergenza coronavirus. Detto questo, abbiamo anche anticipato il rinvio dell'assemblea di FIGC, prevista domani, mercoledì prossimo invece ci sarà l'informativa del ministro Spadafora, mentre le decisioni definitive sul mondo della Lega Pro e della Serie D si allungano, ma non cambiano di fatto quella che sarà la sostanza. La stessa FIGC ha ammesso di aver iniziato a lavorare ad una riforma dei campionati per ridurre il numero di società professionistiche in Italia. Il pensiero per il calcio, cosiddetto minore, è già rivolto alla prossima stagione sportiva. Sono arrivate le prime reazioni dal mondo della Serie D, la gran parte dei presidenti e addetti ai lavori sono favorevoli alla riforma. Altri, come il presidente del Matelica, Mauro Canil, squadra prima nel girone delle Molisane, si è detto scettico sulle ipotesi avanzate. Al contrario, secondo la strada da seguire, è quella di ridurre il numero delle società, sia in Serie D che in Lega Pro. Questa la proposta del presidente del Matelica. Insomma, staremo a vedere. Certo è che in qualche modo questa situazione d'emergenza porta ad accelerare i tempi per rivedere il format delle varie leghe. I problemi ci sono anche per le società di Serie B, mentre in Serie A, pian piano, le società si stanno organizzando. La strada da seguire non è ancora molto chiara. Ad esempio, i giocatori dell'Inter hanno scelto di non iniziare gli allenamenti prima di aver completato tutti i test. La notizia principale è che la Bundesliga tornerà in campo dalla seconda metà di maggio, stavolta la decisione definitiva dopo giorni di indiscrezioni in questo senso. L'ok del governo tedesco è arrivato lasciando ai club la decisione sulla data precisa che potrà essere un giorno nella seconda metà del mese in corso, a seconda delle tempistiche di base richieste dalla società. La Bundesliga torna quindi in campo, un segnale pesante per la Serie A che ora attende il confronto tra governo e FGC per valutare la decisione in merito al nostro campionato. Nella nostra nazione il ministro Spadafora ancora parla di impossibilità di fornire una data a un periodo certo alla ripresa, un concetto che avrà espresso almeno 100 volte da un mese a questa parte. Insomma è chiaro che siamo ancora in emergenza, ma con i controlli che le società stanno effettuando è lecito pensare alla ripresa del campionato. A tal proposito, ieri pomeriggio un giocatore del Torino è un risultato positivo in seguito ai controlli previsti prima del ritorno in campo per gli allenamenti individuali. Si tratta del difensore in culù asintomatico e subito messo in quarantena. La questione degli asintomatici è ovviamente fuori controllo, nel senso che non si può sapere senza un tampone se ci si trova in presenza di Covid-19. Ecco perché il protocollo delle società di Serie A prevede tamponi per i giocatori e tutto lo staff in modo da isolare il gruppo squadra. Al contrario, Paolo Di Bala è guarito dopo oltre un mese di positività. Il calciatore Juventino ha effettuato come da protocollo il doppio tampone. Questa volta gli esami hanno dato esito negativo.